Il Premier Conte oggi ha detto che è il primo passo per ricominciare a correre. Il Governo non è sordo alle tante difficoltà che i cittadini stanno vivendo e intende affrontarle una per una, assumendosi tutte le proprie responsabilità. Oggi entriamo a pieno regime nella fase 2. Ci inoltriamo con fiducia e responsabilità nella strada che ci conduce al ripristino delle ordinarie attività di vita sociale ed economica. Il Paese si sta rimettendo in moto in maniera prudente e ordinata, seguendo le indicazioni del Governo. La strada è ancora lunga e non dovremo mai abbassare la guardia. Proteggeremo noi stessi e i nostri cari rispettando le regole di precauzione e di sicurezza che sono ormai note a tutti. Il Ministro dell'Interno Lamorgese ha detto che in questi giorni di crisi è importante l'erogazione dei fondi di sostegno. Dobbiamo essere celeri ma ciò non vuol dire abbassare la guardia sui controlli contro la mafia. Al momento basterà un'autocertificazione per accedere alle risorse, perché le procedure antimafia sono molto lunghe. Ma poi faremo tutti i controlli. Vi è l'esigenza che le risorse non vadano a finire nelle mani sbagliate. Scarcerato e risarcito dallo Stato per il trattamento inumano a cui è stato sottoposto nel corso della detenzione. Patrizio Bosti, boss della Camorra del Vasto Arenaccia, tra i fondatori della cosiddetta Alleanza di Secondigliano, non è quindi solo tornato libero, ma ha anche ricevuto un assegno di 2.672 euro come parziale risarcimento del danno per aver trascorso un lungo periodo della sua vita detentiva in condizioni ritenute inumane. Bosti era stato condannato per reati di associazione camorristica, omicidio, racket e traffici illeciti. Detenuto nel carcere di Parma avrebbe dovuto scontare in cella 15 anni e 3 mesi e 23 giorni, ma gli sono stati scontati 3 anni e mezzo tra liberazione anticipata e il tempo calcolato come credito vantato per il trattamento inumano. I servizi educativi 0-3 e 3-6 anni non sono stati compresi nelle attività di riapertura. Il Comitato Asili Privati ha detto che il nido privato assolve ad oltre il 50% della domanda delle famiglie. Ci sono quasi 10.000 strutture dimenticate dal decreto rilancio che oltre a non essere oggetto di alcun piano di riapertura si vedono negare la proroga della cassa integrazione per i lavoratori. Viviamo un incubo da 3 mesi, ogni giorno affondiamo nelle sabbie mobili create da chi dovrebbe tutelare le piccole imprese dell'educazione, le migliaia di lavoratori di tutta Italia, educatrici, insegnanti, cuoche, ausiliarie, che non hanno prospettive. Grazie a tutti.